A Versa sono in corso i lavori di pulizie delle aree a contorno del cimitero. L'intervento, ha detto il sindaco Giuseppe Sagliocco, si è reso necessario per una questione igienico-sanitaria e perché gli arbusti stavano creando problemi di stabilità ad alcune strutture all'interno del cimitero. I lavori sono in corso già da giorni e dentro alla fine della settimana saranno completati. Nel corso degli interventi, gli operatori della ritta verde hanno rinvenuto una barracca che presumibilmente era stato occupato fino a poco tempo prima da extracomunitari o da senza ditto. Intervenuti i vigili urbani con il tenente Anna Maria Perfetto, Ertilio Mezzacapo e Tina Del Rico hanno constatato che la barracca era disabitata, seppur da poco tempo. Il fatiscente capanno poi è stato abbattuto per consentire agli operatori di completare l'opera di pulizia all'intera area a contorno del cimitero anche nello standard comunale di via Michelangelo, nei pressi dell'aulario della facoltà di ingegneria e nell'ex area Mercato, in via della Repubblica. Si tratta di aree, in particolare quella di via Michelangelo e nei pressi del cimitero, dove l'erba e gli arbusti sono cresciuti in modo considerevole. Rinvenuto altresì una figura macabra di un manichino che vicino al cimitero ha fatto non poca paura. Grazie a tutti.